Ciao ragazzi, Ivano Harley Davidson Monza, guardate qua, giubbettino in pelle 120esimo, troppo fevo, capellino 120esimo, l'abbigliamento 120esimo disponibile in negozio, shop online, Scala Pay, tre commoderate senza interesse, questo c'è già, qualcosa sta arrivando, qualcosa arriverà, ma brevissimo, ma l'avete vista la moto che ho qua vicino? Softair Springer 1340, a caso riprendi i colori del 120esimo, è una moto del 94, ha percorso 15.000 km, un quadro di robbi perché è da non credere, 1994, 15.000 km, conta chilometri, moto di un nostro cliente, richiesta 17.500 euro, è da collezione, guardatela, 1340, batte ancora forte il cuore, ha i colori del 120esimo, però ha soltanto 28 anni, vi aspettiamo da queste parti, 17.500 euro, 1340 del 94, quindi con 15.000 km, io farei la gara, a presto ragazzi, a regolizzo Monza!